Quali sono le maggiori difficoltà nel dirigere un museo? Siamo un museo di arte moderna e contemporanea, quindi dobbiamo esporre opere del nostro tempo. Arte all'avanguardia, innovativa, la competizione è feroce. Se esponiamo un oggetto nel museo, per esempio se prendiamo la sua borsa e la mettiamo lì, questo la fa diventare arte? Ah! Ok. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi l'artista e sociologa argentina Lola Arias e la sua opera The Square. Il nostro museo non deve assolutamente avere alcun timore di osare. Chiedi scusa a me e alla mia famiglia. Devi chiedere scusa. Questa sera vi abbiamo preparato un fantastico buffet. Pollo ruspante appogato ai funghi e... Per favore, signori, vi prego, non vi accalcate. Fatemi finire! Sei uno che di solito fa sesso con tante donne? È una cosa che ti capita spesso? Dopo te le ricordi? Ricordi i loro nomi? Sì. Sì? Io come mi chiamo? Il quadrato è un santuario di fiducia e amore. Si calmi, signora! Al cui interno abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri. Al prossimo episodio